una volta non c'erano i giochini elettronici un geletto costava 150 lire c'era ancora la nebbia a milano una volta anche per le chiamate di emergenza ci voleva il gettone poi le chiamate di emergenza furono gratuite ma dovevi ricordare molti numeri se non ricordavi quello giusto per devi tempo prezioso ora basta una app individua la tua posizione e distribuisce la tua richiesta al servizio di soccorso più idoneo continueremo ad impegnarci per trovare nuove soluzioni e nuove idee insieme a voi per garantire un soccorso sanitario sempre più efficiente e puntuale ecco